e benvenuti a tutti amici cripto curiosi bitcoin che cosa potrebbe accadere in questo momento siamo in una conformazione guardando anche su coin market cap ragazzi negli ultimi sette giorni più 7,39 per cento diciamo che il trend positivo in questo momento a primo diciamo a primo acchitto in sostanza alla prima visione del grafico sembra esaurirsi ma andiamo nello specifico a vedere in questo video che cosa sta succedendo e cosa potrebbe aspettare a bitcoin da qui a breve intanto vi ricordo come sempre ragazzi di lasciare un bel like al video di iscrivervi al canale accendendo la campanellina delle notifiche in descrizione vi lascio il link del canale ufficiale telegram importante inoltre in descrizione avete i link degli exchange che uso io con i migliori sconti di commissione a vita diciamo ragazzi che abbiamo toccato il giornate molto positive per gli inflò negli etf su bitcoin parliamo di somme considerevoli che dopo andremo a vedere ma effettivamente bitcoin che cosa sta facendo ora diciamo che nelle ultime 24 ore non ci sono stati dei cambi di prezzo diciamo alquanto preoccupanti naturalmente bitcoin si è arrivato a ritestare i 66.000 65.000 è qualcosa per poi ritornare al di sopra dei 67.000 ad ora siamo a 67.184 nelle ultime 24 ore cosa molto buona sono aumentati i volumi riguardo il trading ok quindi sulle coppie di scambio ovvero il più 50 per cento nelle ultime 24 ore per quanto riguardano gli scambi su questo asset ma bitcoin che cosa potrebbe accadere che cosa è avvenuto che cosa sta succedendo effettivamente abbiamo rotto questa soia dei 67.000 che era una resistenza molto ma molto importante ragazzi che andava a combaciare come vi ho fatto vedere l'altra volta con le zone del precedente bull market ok quindi resistenza superata ora diventato supporto naturalmente non ha rotto diciamo ora la giornata di oggi si deve deve concludere in sostanza deve ancora concludersi questa giornata però naturalmente sembra che qui vediamo bene a livello tecnico col body siamo sopra al di sopra dei 67.000 ad ora al di sopra di questa ex resistenza e naturalmente aspettando la giornata di oggi possiamo effettivamente vedere se ci possiamo andare a vicinare effettivamente ai 70.000 dollari ok zona qui nello specifico zona veramente diciamo molto psicologica soglia molto psicologica poi andremo a vedere nell'orario che cosa sta facendo il grafico di bitcoin perché interessante anche nell'orario però diciamo che questa soglia qui dei 70.000 che è una soglia effettivamente psicologica andremo a mettere comunque in questa linea ecco qui diciamo violacea comunque sia per capirci abbiamo questa soglia qui ok quindi prossimo target naturalmente se bitcoin continuerà con il suo trend in positivo con il suo trend rialzista ok naturalmente molto brevemente potremo andare a toccare quasi 70.000 dollari a breve naturalmente andiamo a vedere anche dove sono le maggiori zone di liquidità nelle ultime 24 ore troviamo a 67.741 ok diciamo questo per le 20 741 ok questo diciamo per al breve termine in sostanza ok siamo qui nelle 24 ore però se andiamo a vedere sul mensile sul mensile anche ragazzi abbiamo zone 67.821 ci stiamo dirigendo verso queste zone qui naturalmente però al di sopra ragazzi non abbiamo un granché per ora ok quindi in sostanza questo è per bitcoin oggi abbiamo diciamo ad ora ci sono come possiamo ben vedere qui pochissimi volumi volumi ok quindi questa si può ritenere anche una rottura della resistenza dei 67.000 non diciamo molto deciso ok quindi c'è da fare attenzione anche a questo aspetto perché vediamo i volumi veramente sono minimi ok sono veramente minimi per ora poi naturalmente potrebbero cambiare le cose però per ora sono molto minimi segniamo la rsi 59 punti quindi ci troviamo stiamo andando verso l'iper venduto in sostanza comunque sia oltre alla soglia alla soglia medica per quanto riguarda la rsi altri indicatori da vedere magari la stocastica che dopo ci servirà anche dopo ma ne andiamo a vedere un attimo veloce così la stocastica si trova diciamo in zona di iper venduto e appena ci ha dato un segnale comunque sia di crocio delle medie mobili ok magari fatemi cambiare fatemi settare anche a me piace settarlo in questo modo qui ok allora andiamo a vedere comunque sia ci ha dato effettivamente c'è dato un segnale short effettivamente dalla candela precedente quindi staremo a vedere che cosa succederà ragazzi comunque sia questo è il diciamo sul giornaliero è in sostanza la situazione di bitcoin ora andiamo a vedere sull'orario ragazzi molto interessante sull'orario abbiamo questa conformazione qui che si è andato a formare ok allora andiamo a vedere insieme ragazzi potrebbe naturalmente essere interessante poi naturalmente questi non sono assolutamente dei consigli né di trading né di investimento fate le vostre valutazioni io vi faccio i video secondo il mio modo di ragionare secondo diciamo la mia visione però qui ragazzi si è formato possiamo andiamo a cambiare ecco qui mettiamo il verde magari togliamo ecco qui togliamo questa soglia qui si è formato questo possiamo vedere ragazzi questo rettangolo qui ok naturalmente ora che cosa ci va a dire ci va a dire che ci stiamo per quanto riguarda l'orario ci stiamo su un termine orario ci stiamo effettivamente siamo al top il top è questo qui ragazzi dei 67.342 ci ricordiamo che le zone di liquidità diciamo si trovano 67.625 all'incirca nelle ultime 24 ore andiamo a vedere meglio le troviamo qui zone 67.741 67.848 quindi ragazzi effettivamente questo si è formato sull'orario ok cosa naturalmente interessante perché come possiamo ben vedere se effettivamente diciamo qui viene effettivamente rotta questa soglia qui viene effettivamente violata con un bel incremento di volumi ragazzi naturalmente se andremo a vedere un bel incremento di volumi poi questa resistenza violata ragazzi naturalmente abbiamo visto dove sono anche le zone di liquidità possiamo naturalmente sperare poi questa è la mia idea ragazzi è poi naturalmente magari qui viene rigettata e riandiamo sotto che andiamo a ritestare questa soglia dei 66.000 ok all'incirca 66.000 quindi soia anche un pochettino psicologica magari ritestare queste soglie qui ok e poi sfondare però effettivamente questo è quello che si è creato qui diciamo che ecco si è creato questa questa zona possiamo chiamarla stagnante ok che può naturalmente rivelarsi un'opportunità nel breve ok è stocastico segnale buy dato al verso le 11 di questa mattina rsa e sopra la media anche qui e andiamo a vedere anche un attimo la mac di che cosa ci va a dire la mac di ci fa a dire che siamo in un trend ancora positivo per quando riguarda l'asset crescente ok staremo a vedere se i segnali diciamo di questa rottura avverranno ci saranno più segnali dopo magari andiamo a ritracciare qui e poi rompere ok sostanza questo è allora andiamo a vedere per quanto riguarda la liquidazione bitcoin nelle ultime 24 ore ragazzi non ci sono state fortissime liquidazioni parliamo di 26 milioni e 900 mila dollari in totale in long sono 16.046 in short 10 10 milioni 10 milioni e passa fu sentiment punto net ragazzi vediamo che gli indirizzi attivi di bitcoin a mano a mano vanno a diminuire che sta a significare sta a significare che naturalmente chi gli tiene bitcoin vede ok questo asset come un investimento veramente a lungo termine come possiamo ben vedere anche dalla chart ragazzi siamo giorno per giorno comunque sia sta prendendo un trend diciamo il ruolo in negativo ok negativo nel senso che comunque sia gli address totali attivi negli ultimi giorni stanno via via diminuendo andiamo sugli etf inflò ragazzi giornata dell'ultima che quella del 17 maggio dopo aspetteremo i dati di oggi però vediamo ragazzi il 15 maggio 303 milioni di dollari 16 maggio 257 milioni di dollari 17 maggio 221 milioni di dollari ragazzi fanno un inflò negli etf pazzesco straordinario giornata di oggi staremo a vedere che cosa succederà appena avremo i dati per quanto riguarda quelli di hong kong non c'è nulla da dire più che altro perché diciamo vediamo benissimo che è una situazione abbastanza di stallo detto ciò ragazzi fatemi sapere nei commenti siamo arrivati alla fine cosa ne pensate noi ci salutiamo qui ci vediamo al prossimo video bel like e seguite